Charles Azzina, attaccante, classe 89, è arrivato da pochi giorni alla corte di Mister Parigi, ma lo abbiamo già visto in campo dal primo minuto con la maglia della Pistoiese contro la Ianese. Nato in Ghana ma cresciuto in Italia, ha esordito in Serie D con la maglia della Virtus Verona nella stagione 2010-2011 e poi ha disputato diversi campionati in Europa, in Spagna, in Germania, Finlandia, Albania, Lituania e Malta. Ultima esperienza in quinta serie tedesca con il Werdingen. Il calcio è così, delle volte fai delle scelte dove hai bisogno di nuovi stimoli per andare avanti. Io ho fatto questa scelta qua perché prima di tutto mi mancava il calcio italiano dove sono cresciuto e sono andato via per quasi dieci anni. Quindi sentendo questa proposta qua l'ho presa come una sfida per tornare in Italia e dare qualcosa al calcio italiano che mi ha cresciuto da quando sono piccolo. Per me è stata una scelta facile, ma allo stesso tempo non è facile perché poi ho un lavoro molto intenso che richiede tanto perché poi se manca la salvezza allora non si è venuto a fare niente. Quindi per me è importante che sono qua a dare una mano alla società e andare avanti. La tua preparazione fisica a che punto è? Io sto lavorando molto bene intensamente con la squadra, poi il lavoro che si fa in settimana è molto preparativo, che mi rende molto, che mi fa dare molto. Quindi sono contento, credo che un paio di settimane, anche una settimana, credo che riuscirò a trovare la forma, la condizione giusta. Spero di fare i gol per aiutare la squadra, per la società, per i tifosi. Bisogna essere consapevoli che c'è tanto anche da lavorare, quindi è una responsabilità grande che ti stimola ogni domenica a fare bene.